Bernardotto in area di rigore, Blondette riesce a allontanare sul pallone Tassi che viene anticipato da Pinto, ancora gran numero di Malotti, Malotti entra in area, Bernardotto la conclusione è il gol, Teramo in vantaggio al primo della ripresa, con Bernardotto gran numero di Malotti e poi Bernardotto che è andato a punire Ginestra, ma davvero grande numero da parte di Malotti e la palla è verticale per Bernardotto che ha frettato Ginestra al primo della ripresa, Teramo in vantaggio, si sblocca il puntaggio